Siamo all'interno della piattaforma dei rifiuti della Ecolan in località Cerratina dove questa notte intorno all'1.30 si è sviluppato un incendio, un incendio che si è sviluppato proprio qui. Siamo in compagnia con il responsabile tecnico della piattaforma Gabriele Di Pietro. Come ve ne siete accorti? Si è attivato il sistema antincendio della piattaforma, abbiamo un sistema di controllo, c'è stata la chiamata alla videosorveglianza e la prima persona a raggiungere l'impianto è stato il presidente che subito ha attivato tutte le procedure dottor Ranieri per far sì per contenere l'incendio. Sono arrivati i vigili del fuoco che si sono prodigati dall'1.30 fino alle 5.30 di questa mattina per contenere l'incendio e per mettere in sicurezza l'impianto. Diciamo che l'incendio si è propagato dall'area definita A1 che è lo stoccaggio del multimateriale 15.0106 per poi danneggiare anche come vediamo l'impianto di selezione. Il problema è proprio questo, che si è danneggiato questo impianto? L'impianto di selezione che non è più utilizzabile, quindi già abbiamo attivato tutte le procedure per il fermo tecnico di quest'area, quindi tutte le comunicazioni. Abbiamo fatto tutto secondo quanto previsto, le acque di lavaggio per spegnere l'incendio sono state stoccate nella vasca di prima pioggia e verranno poi trattate secondo le normative vigenti. Ecco, voi avete portato fuori tutto il materiale che era pronto qui per essere... Presidente, insieme ai ragazzi della Ecolan che hanno fatto veramente uno sforzo, devo ringraziare tutti, in mane per riuscire, mentre le fiamme divampavano all'interno, con i mezzi della Ecolan tirare fuori i rifiuti combusti. Voi avete visionato le videocamere tra l'altro? Sì, abbiamo visionato le videocamere, ci sono delle indagini in corso anche dei carabinieri, carabinieri forestali, ma dalle prime immagini il fumo parte dal centro del cumulo, quindi potrebbe essere, usiamo il condizionale, un'autocombustione. Danni ingenti dunque all'impianto per la selezione dei rifiuti, di cui abbiamo parlato proprio ieri con il presidente Massimo Ranieri, in una intervista a commento dei risultati eccellenti ottenuti da Ecolan, come emerge dal dossier di lega ambiente sui comuni ricicloni.